Ciao a tutti, sono Francesco Leone, ho 25 anni e sono un attore. Sono qui per parlarvi della fiction Fosca e Innocenti che andrà in onda da venerdì 11. Il canale 5. Ti interpreto l'agente Pino Ricci. Andiamo. Io? Devo prendere la pistola. No, tu resti qui. Non ti preoccupare, anche tu prima o poi diventerai un vero poliziotto. Ho iniziato a studiare recitazione durante il liceo e tuttora sto continuando a formarmi in Action Academy fino a riuscire a vincere il provino per la serie tramite la mia agenzia, Vimor. Action Academy mi sta aiutando molto. Sto studiando e facendo delle materie che non avevo mai fatto prima. Tutti i docenti sono molto professionali. Capo? Non be', non be', non be'. Sto arrivando, scappo. Ragazzi, scusate, mi devo andare, però vediamoci su Canale 5 in prima serata venerdì 11, con Fosca e Innocenti e con Pino Ricci. Mi raccomando, non mancate, eh.